Molto applaudita al 44esimo festival di Carlo Vivari, Isabella Hiper, che nel corso della presentazione del suo film Villa Malia, firmato da Benoit Jacot, ha ricevuto il prestigioso globo di cristallo alla carriera. Riprendendo il ruolo della pianista che le era venuto già così bene con Michael Hanneke, qui è Anna, una concertista che all'improvviso, avendo scoperto l'infercità del suo compagno di 15 anni, decide di abbandonare carriera, casa e beni materiali per ricominciare tutto da capo. Taglia i punti con tutti, madre compresa, senza nemmeno un ripensamento, un fremito di ricordo affettivo, niente, l'unica persona che rimane in contatto e un amico di infanzia ritrovato troppo la notte in cui si accorge tutto il momento. Il resto non ve lo raccontiamo, perché se volete farvi del male è imperativo vederlo.